Oggi è una partita veramente dura, Chemik ha fatto vedere come si gioca duro e noi dopo questo secondo set che abbiamo perso su due punteggi era difficile però abbiamo detto tra di noi che andiamo avanti, che dobbiamo sempre sostenere un'altra e sarà tutto bene e così è andato abbiamo vinto una partita difficile per noi importante perché sempre contro Chemik perdevamo 15-13 quindi per prendere un po' di fiducia era importante vincere quindi siamo felici però già domani, no martedì, domani partiamo, martedì giochiamo e andiamo avanti